Aristotele Tlatano, vedi oggi la decisione della Lega di effettuare la finale scudetto in gara unica, un tuo parere su questa decisione? Sembra un po' un'americanata, tipo il Super Bowl, il gara secca, però può essere una buona soluzione. Non so solo un'arma a doppio taglio, potrebbe essere un vantaggio o un svantaggio. Bisogna saperla interpretare nel migliore dei modi, quindi è una novità, come tutte le novità fanno all'inizio un po' paura, però potrebbe essere un'ottima soluzione. Se dovessi decidere oggi, favorevole o contrario? Visto come sono andate i play-off scorsi, dovrei dire sulla carta di essere contrario, però non sono così scelte, potrebbe essere una buona soluzione. Senz'altro per chi ne esce perdente avrebbe preferito le gare un po' più lupi, come forse è meglio che siano, però con tanti impegni penso nazionali. Il calendario è molto ricco di impegni, è stato un'unica soluzione, quindi per tentare non muoce, poi ci vedrà. Ma cambiare le regole a giochi in corso può essere un problema oppure adesso c'è ancora in tempo? Siamo in tempo perché la pallavola è un po' strana, la regola del season vale quel che vale, bisogna arrivare bene in forma nei play-off, quindi se l'avessero cambiato durante i play-off sarebbe stato un po' di troppo, adesso penso che la vediamo. Grazie.